Siamo partiti bene, abbiamo creato delle occasioni che dovevamo sfruttare assolutamente. La squadra stava bene nel campo, contro una squadra forte, una squadra che sapevamo che a nove elementi importanti. Ci siamo fatti trovare impreparati all'inizio del secondo tempo e da lì la partita è cambiata. Siamo stati un po' frettolosi, un po' nervosi. Ovviamente il momento che stiamo passando ha portato a tutto ciò. La pastese poi ha fatto la gara che in quel momento era più idonea a loro perché ovviamente si chiudeva e ripartiva e noi non siamo stati bravi magari a essere lucidi e a creare qualche occasione in più. Ci è mancata la capacità, magari che questa è dettata dal momento, perché i ragazzi hanno dato tutto, però quando magari è il momento che stiamo vivendo noi si perdono un po' di certezza, un po' di ottimismo e le giocate magari sono frettolose e invece dobbiamo trovare altre soluzioni. Io ho un campionato veramente anomalo quello che stiamo vivendo perché anche oggi se ne siamo giocati non c'è stata una squadra che ci ha annichilito, però i punti non arrivano. Ovviamente i nuovi vanno inseriti, non ci vuole del tempo, sono arrivati dal mercato adesso invernale, autunnale e ovviamente già oggi hanno fatto bene, però i normali meccanismi vanno rodati. Presidente, era fondamentale partire con una vittoria in questo nuovo anno? Ma è fondamentale direi di più perché abbiamo fatto un giro di andata che nessuno se lo aspettava, dopo tante belle promesse e premesse che ci avevamo, è normale che il calcio è questo. Abbiamo risettato l'ultimo mese con il direttore, c'è ancora da migliorare, però oggi faccio i complimenti ai ragazzi perché è stata una vittoria proprio con il cuore, proprio voluta con il cuore. Presidente, il mercato di lettanti ha tolto tanto a Lavastese, adesso c'è il mercato dei professionisti, può arrivare qualcosa in settimana per dare la possibilità anche al mister di lavorare diversamente anche sui moduli? Guarda, stiamo valutando perché non bisogna sbagliare, i nomi adesso non servono perché abbiamo visto che certi personaggi, giocatori che vengono qua chiedono, chiedono, però non danno. Oggi abbiamo visto che è una squadra corta, però hanno dato tutto quello che ci avevano, anche di nonostante dei limiti perché c'era una panghina con il 2004-2005, cioè non era facile, però ci stiamo lavorando, abbiamo i due entrati sicuramente, però vogliamo gente che ci dà una mano che ci tiene a questa causa. Presidente c'è un Casorchi? Casorchi voleva andare via, noi non potevamo darlo perché non ci possiamo buttare la zappa sui piedi, lui ha deciso di non tornare, ha mandato un certificato, ma fu falso, perché il 23 lui stava qua prima col Pineto, noi abbiamo fatto tutta la Lega e ci sono i suoi percorsi e vediamo cosa succederà. La vittoria sicuramente è dedicata ai tifosi che riabbraccerete il 22 all'Aragona? Ai tifosi quelli che amano la pastese, praticamente, sottolineiamo perché qua c'è un dato di fatto che nella società sono otto anni che sta qua, purtroppo ci sono ancora qualcuno che ha ancora dei dubbi, però piano piano li facciamo levare questi dubbi, sì, una vittoria dedicata ai veri tifosi, hanno sofferto con noi e speriamo che il 22,9% apriamo questo campo, faremo una bella festa e vediamo di dare qualche soddisfazione ai tifosi.